Ciao ragazze, in questo video vi spiego come si fa a diventare consigliere di bellezza e finalmente ricevere super mega borsone pieno di prodotti in omaggio. Se sei curiosa, continua a guardare. Dopo che ti è arrivato il primo pacco a casa e quindi sei diventata cliente privilegiata, puoi decidere se diventare consigliere di bellezza oppure terminare tutto. Ma io ti direi di continuare a diventare cliente privilegiata. Perché? Perché appunto avrai un tuo codice personale una volta che ti è arrivato il primo pacco e con questo codice personale tu puoi entrare nell'area riservata e fare gli ordini. Per diventare consulente di bellezza ci sono due modi. O di fatturare 320 euro a provvigione in due mesi oppure di fatturare 500 euro in un trimestre solare. Se fatturiamo 320 euro dopo due mesi da quando abbiamo ricevuto il primo pacco abbiamo la possibilità di ricevere questo borsone giga gigante enorme pieno di prodotti appunto direttamente a casa nostra. Se non riusciamo a fatturare 320 euro di prezzo a provvigione entro due mesi non lo riceviamo più. Non lo dobbiamo puntare ad avere questo super borsone perché a parte che è bellissimo è super capiente e lo potete utilizzare per andare in palestra. Io lo utilizzo adesso è vuoto ma io lo utilizzo per fare in beauty party. È molto molto bello, molto capiente. Poi vabbè ha anche i manici in pelle bianco molto leggo. È bellissimo, mi piace tantissimo. E all'interno troverete tantissimi prodotti appunto o in full size che potete benissimo rivendere quindi potrebbero essere tantissimi condomini. Ovviamente io questi prodotti non ce l'ho più perché li ho già venduti e utilizzati. Ho solamente la cartoncina appunto dove ci sono appunto questi prodotti e ci sono anche tutti i campioncini. E sono 120 i campioncini quindi avrete proprio il campionacchio completo. Come si fa a fare carriera poi se vuoi crescere come consulente di bellezza? Da consulente di bellezza puoi diventare consulente di bellezza senior, poi consulente di bellezza top e poi prestige. Che differenza c'è tra questi differenti consulenti di bellezza e come ci si fa ad arrivare? Per diventare consulente di bellezza senior dobbiamo fatturare 750 euro nel trimestre solare. All'inizio del trimestre successivo noi saremo consulenti di bellezza senior per tre mesi, quindi per i tre mesi successivi. La differenza fondamentale sta per quanto riguarda la quantità di vendita. La consulente senior per quantità di vendita guadagna il 38% l'ordo, invece la consulente di bellezza diciamo basica guadagna il 35% l'ordo. La consulente top diventa consulente top se ha fatturato 1500 euro nel trimestre solare, quindi inizierà il trimestre successivo con la qualifica top. Che cosa ha la qualifica top? Ha il 32% in QP, quindi in quantità personale. Avendo il 32% in QP pensate quanto guadagno c'è e invece quantità di vendita ha il 42% l'ordo, anche qui abbastanza alto. E tutta questa percentuale è sempre per quanto riguarda gli ordini maggiori di 180 euro. Per ordini da 45 a 180 euro la percentuale di guadagno è sempre uguale. QP il 15% e in QV il 25%. Quindi se sei consulente di bellezza, consulente di bellezza senior, top o prestige, se fai ordini minori di 180 euro, la tua percentuale di guadagno è sempre la stessa. Diventando consulente di bellezza prestige ti si apre un mondo. Perché? Perché diventi consulente di bellezza prestige se fatturi di solito intorno ai 2000 euro. Ogni trimestre cambia, quindi può essere 2100, 1900 euro, dipende sempre dal trimestre. Se è un trimestre forte sanno che puoi fatturare di più e quindi il livello è più alto. Ma ti viene comunicato sempre dal tuo capogruppo o dalla tua responsabile. Se fatturi appunto quella cifra in un trimestre solare, nel trimestre successivo sarai consulente di bellezza prestige e hai le stesse percentuali di guadagno come se sei una consulente top, ma ti si apre un mondo. C'è proprio Milena Pellegrino che ti fa la colazione la mattina. È una cosa bellissima perché ti arriveranno tantissimi regali a casa e ogni trimestre ci sono sempre cose magnifiche. Cioè cose incredibili veramente che neanche per le capogruppo sono dei regali così belli. Tipo mi viene in mente la stuccina proprio di brochet in pelle con ecopelle, con la borsina appunto ecopelle sempre di brochet. Oppure proprio entrare in un mondo a parte anche delle offerte fatte in modo specifico per le prestige. È una cosa proprio le coccolano in modo speciale perché sono persone speciali. Perché se una persona riesce a diventare prestige, si merita appunto il prestigio perché vuol dire che ha deciso di fare di brochet il proprio lavoro. Perché fatturando appunto 2000 euro in un trimestre solare il guadagno è abbastanza importante come appunto se è una cosa che sei portata e che ti piace potresti benissimo avere. Spero che questo video ti sia stato utile, se hai qualsiasi domanda non esitare a chiedermela qua sotto, sarò felicissima di risponderti. E se questo video ti è piaciuto metti mi piace, segui questo canale, ci vediamo su Instagram, mi trovi sempre lì, cristina.varone, così continuiamo a chiacchierare. Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata!